E' questo il primo appuntamento organizzativo della società ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano. E' una gara riservata alla categoria giovanissimi valida come 28esimo Gran Premio Banca di Cambiano 1988 SPA. Si va quindi ad omaggiare quello che è lo sponsor storico di questa società valdelzana, la Banca di Cambiano con una manifestazione primaverile e così il tempo. Questo oggi davvero è stato clemente nei confronti di questi ragazzi, riservata a quella che è un po' la categoria principe della società ciclistica di Castelfiorentino, vale a dire la categoria giovanissimi. E sono stati tanti i ragazzi che hanno preso il via, questo anche a testimonianza di come ci sia tanta voglia da parte di questi ragazzi di correre dopo un paio di anni di difficoltà, dopo un lungo inverno. Adesso è arrivato davvero il momento di poter tornare a fare sport nel migliore dei modi, perché se tante categorie agonistiche hanno ripreso già nella stagione 2020, nella stagione 2021, i giovanissimi si hanno riniziato con un'attività già negli anni scorsi, ma la vera festa di queste categorie è quella che riguarda un po' un momento di aggregazione e che quindi adesso pian piano torniamo a vedere con tanti partecipanti, tante famiglie alla via che non solo vengono a portare i loro ragazzi a correre, non portare i loro ragazzi ad affrontare queste gare, ma vanno anche a trascorrere un bel pomeriggio tutti assieme. E come tradizione, prima della partenza delle categorie ufficiali, è il momento della cosiddetta G0, ovvero ragazzi non tesserati, con età spesso inferiore a quella minima per partecipare alla categoria G1, vale a dire i 7 anni, che così hanno un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere il ciclismo per loro nei prossimi anni. E quindi adesso siamo con la prima categoria, la categoria dei G1, ragazzi e le ragazze in pista, ricevono le ultime raccomandazioni da parte dei familiari, dei direttori sportivi e del collegio di giuria. Collegio di giuria che quest'oggi è composto da Lorenzo Magri, presidente di giuria, e Daniela Grazzi, giudice di arrivo. Quindi vi ricordo che ci troviamo presso il bar Gallo Nero, via Duca d'Aosta a Castel Fiorentino, ed un circuito che per le prime categorie misura 500 metri, e poi invece per le categorie G3, G4, G5 e G6 viene allungato un tracciato di 1 km 200 metri, ovviamente diverse le ripetizioni dei giri per quanto riguarda queste categorie. Ma siamo già in pista, dicevamo, con la categoria G1, la prima categoria ufficiale di quest'oggi, con i ragazzi e le ragazze che stanno già pedalando. Vi dicevo, un buon risultato di partecipazione, tanti ragazzi e tante ragazze che sono arrivati qui a Castel Fiorentino per andare a contendersi questo trofeo. Intanto categoria G1 con il successo di Biagio Cal Nicolò, seconda posizione per Nicolò Innocenti, mentre terza posizione per Martino Brandini. Arriva a quarto Cosimo Attili e quinta posizione per Achille Maria Mannini. Tra le ragazze invece è successo di Ginevra Bentinelli davanti a Martina Batolla, questo per quanto riguarda la categoria G1, la prima categoria ufficiale di questo lungo pomeriggio di sport a Castel Fiorentino. Ed archiviata la categoria G1, è il momento della categoria G2, anche in questo caso presenti sia ragazzi che ragazze, quindi sempre molto nutrito il lotto dei partecipanti. Aumentano i giri da percorrere, siamo sempre nel circuito quello più piccolo di 500 metri ed eccoci al momento della partenza. Vedete già bello il colpo d'occhio con tanti ragazzi e tante ragazze al via. Prima pedalate per questa categoria, la categoria dei G2. Ovviamente un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, agli sponsor, quindi sicuramente la banca di Cambiano in prima linea, sempre a fianco al mondo del ciclismo, ma anche ai tanti volontari che hanno reso possibile questa manifestazione. Infatti il ciclismo giovanile si fonda, fonda le proprie radici sull'impegno dei volontari che permettono non solo di garantire la sicurezza in corsa, ma anche di portare questi ragazzi e queste ragazze in giro per la Toscana a divertirsi e a fare lo sport che amano. Un ringraziamento particolare va anche ovviamente all'amministrazione comunale di Castel Fiorentino che ha reso possibile la chiusura delle strade interessate dalla manifestazione. Insomma un connubio di forze che davvero ha dato la possibilità a questi ragazzi e queste ragazze di correre e di divertirsi in questo pomeriggio primaverile a Castel Fiorentino. Siamo ormai in attesa della conclusione della prova riservata alla categoria G2, quindi si va a concludere la seconda gara di giornata che vede il successo ancora di un atleta della Fosco Bessi di Calenzano, questa volta Dario Piccariello, che precede Elia Simi, terza posizione per Leonardo Bianchini, quarto è Leonardo Conti, quinta piazza per Cosimo Nimi. Per quanto riguarda le ragazze invece Adele Lorenzoni dell'Olimpio Valdarnese ha preceduto Carolina Moriconi e Cristina Battini, queste le prime tre classificate nella categoria G2 femminile. E siamo già in pista con i ragazzi e le ragazze della categoria G3, quindi si sale di età ma si sale anche con il chilometraggio, infatti questa è la prima categoria che affronta il circuito di un chilometro e duecento metri, quindi anche i passaggi sotto l'arrivo saranno un po' più rallentati rispetto ai giri precedenti, ma ovviamente aumenta anche il chilometraggio, aumenta la difficoltà del percorso per quanto riguarda questi ragazzi e queste ragazze. Tutto è pronto, quindi sul traguardo vediamo la concentrazione di questi giovani atleti alla via e partono in questo momento con subito qualche scatto in testa al gruppo e qualche atleta un po' in difficoltà nel momento della partenza, sempre un punto delicato quando si tratta di categorie giovanili. Prima pedalate quindi per la categoria G3, come vedete si è già frazionato un po' il gruppo dei partecipanti e ci avviciniamo quindi al giro di boa di questo pomeriggio dedicato al ciclismo giovanile. Organizzazione, vi dicevo, cura della società ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano che quest'anno ha in programma ben quattro organizzazioni, questo è quindi solo l'inizio di una grande stagione organizzativa per quanto riguarda la società Val del Zana che davvero è pronta a rendere sempre più interessante la stagione di questi ragazzi. Intanto suona la campana per quanto riguarda la categoria G3, quindi ci avviciniamo ormai alle battute conclusive anche di questa corsa, ci avviciniamo all'epilogo per quanto riguarda questa categoria e quindi apprestiamoci a seguire la conclusione. Ed eccoci sul traguardo della categoria G3 con la maglia del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli di Lorenzo Cantini che vince davanti a Gian Maria Berti della Berti Mobili Benassi. Terza posizione per Cristian Velagi del club ciclo Appennini con 1907, quindi Niccolò Di Lucia della Castelfiorentino Banca di Cambiano ed Elia Cocchi del gruppo sportivo Borgo Nuovo in quinta posizione. Tra le ragazze invece è successo di Alice Fontani dell'Olimpia Valdarnese davanti a Sofia Trapassi del team Stradella, quindi Camilla Mannucci del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli, Nora Giusti della Berti Mobili Benassi e Anna Teriaca della Fosco Bessi di Calenzano. Questo per quanto riguarda la categoria G3 maschile e femminile. Quindi sempre di fronte al bar Gallo Nero, ci apprestiamo a seguire la quarta gara in programma, quindi abbiamo superato metà del programma di questo pomeriggio dedicato al ciclismo giovanile. Ci apprestiamo quindi a seguire le categorie maggiori, quelle con il chilometraggio più alto e quindi anche con gli atleti più grandi. Infatti la categoria G4 ha atleti che sono nati nel 2012 e che quindi nel 2022 compieranno o hanno già compiuto i 12 e i 10 anni di età. Eccoci alla partenza per quanto riguarda questa gara, quella riservata alla categoria G4. Ricordiamo sempre gara maschile e femminile, corrono assieme. Per quanto riguarda le categorie giovanili qui nella categoria giovanissimi e vedete inizia già anche un po' di pretattica con una prima parte di gara nella quale gli atleti vanno un po' a studiarsi in vista poi delle fasi più interessanti di corsa. Gli atleti invece hanno già perso contatto, infatti la partenza è stata da primo molto veloce e poi c'è stato un rallentamento e una tattica classica questa che vediamo nelle categorie alte della categoria giovanissimi con i ragazzi che ormai iniziano a conoscersi e quindi c'è anche un po' di pretattica per quanto riguarda queste categorie. Stiamo seguendo, vi dicevo, la 28esima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano, organizzazione a cura della società ciclistica Castello Fiorentino Banca di Cambiano. Ci troviamo proprio a Castello Fiorentino per quanto riguarda questa manifestazione. Dicevamo è uno dei primi, è il primo appuntamento di una stagione intensa di questa società che è attiva praticamente 365 giorni all'anno. Infatti non solo ciclismo su strada ma anche mountain bike nella parte finale dell'anno con ovviamente sempre il focus sulla categoria giovanissimi. Poi il doveroso omaggio nel corso della stagione ad un campione che ha mosso le prime pedalate proprio nella società ciclistica Castello Fiorentino, sto parlando ovviamente di Cristian Sbaragli. Infatti anche quest'anno gli organizzatori vogliono organizzare assieme al fan club di Cristian una gara riservata alla categoria giovanissimi. Quindi davvero tanta la carne al fuoco per quanto riguarda questo sodalizio organizzativo. Intanto con la categoria G4 andiamo ad applaudire questo bella solo di Mattia Meniconi della società ciclistica Albergo del Tongo che precede Damiano Polvasini del pedale toscano Ponticino in seconda posizione. Per quanto riguarda la completata del podio invece Lorenzo Nicolini della Fabri Mar Marco Foreber in terza posizione quindi Francesco Mirra in quarta e quinta posizione per Francesco Conte del velo club scuola ciclismo e polita. Quanto riguarda invece le ragazze della società della categoria G4 femminile invece è successo di Emma Tapinassi dell'Olimpia Valdarnese davanti a Giovanna Conte del velo club scuola ciclismo Empoli. Questo l'ordine di arrivo anche per la categoria femminile della G4. Ci mancano quindi due corze, due gare alla conclusione di questa nostra sintesi ovvero la gara della categoria G5 e poi quella della categoria G6. Sono anche le batterie più numerose. È davvero bello il colpo d'occhio su questo gruppo di atleti che sta per prendere il via che ascolta le ultime raccomandazioni da parte dei direttori sportivi, degli organizzatori, del collegio di giuria prima poi di prendere il via in questo tracciato che vi ricordo misura 1200 metri che sarà ripetuto più volte a seconda delle categorie. È la ventottesima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano 1988 per questa azienda, questa banca da sempre alla fianco del ciclismo e sempre vicina al mondo del ciclismo giovanile. La partenza con la categoria G5 non senza qualche difficoltà ma davvero guardate il colpo d'occhio tantissimi i partecipanti in questa batteria a testimonianza di come ci sia davvero tanta voglia di tornare a correre, di tornare a pedalare specialmente nel ciclismo giovanile. Quindi categoria G5 che come vedete è ancora più ferreo il controllo, la tattica di questi ragazzi, gruppo che viaggia a compatto nei primi giri di questa manifestazione, vedremo se nel finale qualcuno proverà ad anticipare quella che potrebbe essere una vera e propria volata di gruppo. Ancora forte pretattica, vedete in testa la gruppo quando siamo ad un nuovo passaggio sotto il traguardo, continui sguardi tra coloro che sono un po' i favoriti di questa manifestazione e gruppo che è ancora forte di una ventina di unità nella parte iniziale del plotone. Primi giri che se ne sono andati, ormai ci avviciniamo alla parte finale di corsa, c'è questo allungo a due, due sono gli atleti che se ne stanno andando in questo momento, entrambi della team Valdinievole. Si tratta di Tommaso Marini e di Francesco Martinelli che hanno anticipato il gruppo e hanno guadagnato subito qualche metro nei confronti degli ex compagni di avventura e adesso stanno provando questa cavalcata a due, due compagni di squadra, quindi sicuramente non mancherà l'accordo tra questi due ragazzi che stanno provando ad uscire dal gruppo. Alle spalle vedete si è fatta già una notevole selezione, quindi sempre più atleti che stanno perdendo contatto e ancora assieme i due atleti del team Valdinievole continuano a pedalare e vanno a transitare sotto l'arrivo. Hanno guadagnato già un bel margine nei confronti dei più immediati inseguitori. Ovviamente ci sono anche atleti che sono stati doppiati in questa fase ma dietro, vedete, è già partita la fase di studio per contendersi il terzo posto, quindi a questo punto la lotta per la vittoria sembra essere un affare tra Tommaso Marini e Francesco Martinelli. Vedremo cosa succederà nell'ultime centinaia di metri di questa corsa. Intanto Siria Genovese a guidare la prova della categoria femminile e lei che sta guidando la corsa davanti ad Asia Genovese che è in seconda posizione e noi siamo pronti a questo punto per la conclusione, per l'epilogo della gara con l'attesa di quello che potrebbe essere successo nel corso dell'ultimo giro e con Tommaso Marini che va a cogliere il successo davanti al compagno di squadra Francesco Martinelli in terza posizione a regolare lo sprint del gruppo Niccolò Iacopi del pedale toscano ponticino che precede Leonardo Leonetti della Castelfiorentino Banca di Cambiano davanti a William Antonio Boretti della Fosco Bessi di Calenzano per quanto riguarda la categoria femminile. Vittoria di Siria Genovese della Fosco Bessi di Calenzano davanti ad Asia Genovese e quindi terza posizione per Anastasia Ferri, quarta è vittoria Donno e quinta posizione per Olivia Giovannetti dell'Unione Ciclistica Empolese. E siamo all'ultima gara in programma quest'oggi, quella riservata alla categoria G6 quindi ragazzi che nel corso del prossimo anno andranno ad entrare nella categoria esordienti e questo è l'ultimo passo della categoria giovanissimi prima o poi dell'approdo nelle categorie agonistiche. Per questi ragazzi ovviamente il chilometraggio è sicuramente maggiore e quindi le difficoltà sono aumentate. Intanto un saluto va sicuramente anche a consigliere comunale del comune di Castelfiorentino Federico Fioravanti che è non solo qui in veste di consigliere comunale ma una vera e propria parte attiva a fianco dell'organizzazione. Lui che per anni è stato il direttore sportivo della società ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano proprio in quegli anni nei quali muovevano i primi passi nel ciclismo Cristian Sbaragli ed Alberto Bettiola quindi tanta passione davvero a Castelfiorentino nel mondo del ciclismo e quindi stiamo seguendo adesso questa ultima batteria riservata alla categoria G6 prestiamo quindi a concludere questa nostra sintesi ovviamente al termine di questa sintesi andremo ad ascoltare le parole degli organizzatori un pomeriggio sicuramente impegnativo ma che ha regalato grandi soddisfazioni a tutto il team organizzativo perché davvero sono stati in tanti gli atleti che hanno preso il via e tutto si è svolto in perfetta sicurezza quindi una soddisfazione che si legge già negli occhi di tutti gli organizzatori a fianco di questa bella bella organizzazione ultime pedalate per la categoria G6 quindi ci apprestiamo a questo punto ad applaudire gli ultimi due vincitori il vincitore e la vincitrice di giornata si sta per concludere quindi la prova vedete c'è un gruppetto di 4 atleti in testa alla gara maschile con una fase di studio adesso abbastanza marcata si va a transitare sotto il traguardo prima poi di iniziare le ultime centinaia di metri in vista della conclusione quindi apprestiamoci davvero ad applaudire questi ragazzi e queste ragazze che stanno per concludere le loro fatiche e si sta per concludere anche la fatica organizzativa della società ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano una fatica che però come dicevamo quest'oggi ha regalato sicuramente grandi soddisfazioni perché abbiamo visto una giornata all'insegna del grande ciclismo, dell'amicizia, della festa e davvero non è mancato niente quest'oggi a Castelfiorentino eccoci quindi all'epilogo della prova riservata alla categoria G6 lanciata la volata per quanto riguarda la categoria maschile con Riccardo Frosini dell'Olimpia Valdarnese che precede Leonardo Cerofolini del pedale Toscano Ponticino quindi Andrea Castrucci, Laerte Scappini e quinta posizione per Guido Fontani tra le ragazze successo di Matilde Semoli dell'Olimpia Valdarnese davanti a Greta Proverbio della Castelfiorentino Banca di Cambiano che ha preceduto la compagna di squadra Alice Senesi quarta posizione per Asia Pucci dell'Unione Ciclistica Empolese e quinta posizione per Lavinia Nocciolini del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli questa è la conclusione anche della categoria G6 in questa ventottesima edizione del Gran Premio Banca di Cambiano 1988 SPA andiamo quindi ad ascoltare le interviste alla termine di questo bel pomeriggio di sport Ai nostri microfoni ci ha raggiunto Marco, direttore sportivo della società ciclistica Castelfiorentino Marco, questa è la prima delle quattro gare, dei quattro appuntamenti che ha in programma il Castelfiorentino oggi tanti bambini che si sono divertiti su queste belle strade di Castelfiorentino Buonasera a tutti, sì, questo è il primo appuntamento che abbiamo di quest'anno la gara, il secondo anno che organizziamo appunto qui a Castelfiorentino siamo strafelici, le bambine abbiamo avuto, abbiamo avuto 200 iscritti, oltre 200 iscritti il primo appuntamento appunto come dicevi tu e siamo ampiamente soddisfatti ringraziamo per questo tutti i nostri amici diciamo che poi non si possano chiamare sponsor perché veramente ci aiutano in tutto e per tutto che sono Beppe, Giuseppe e Leonetti del bar Il Gallo Nero poi c'è la banca di Cambiano, chiaramente il nostro primo sponsor che fortunatamente ci aiuta veramente perché se no per noi sarebbe quasi impossibile andare avanti diciamo al mondo d'oggi ha detto bene, il primo dei nostri quattro appuntamenti di quest'anno abbiamo in ponte appunto il 2 di giugno il meeting regionale di Mountain Bike poi abbiamo l'appuntamento della Dogana del 27 di settembre e poi per finire abbiamo l'appuntamento con Cristian Sbaraglia appunto il corridore che ci organizza una gara sempre di mountain bike a fine stagione la giornata di oggi per concludere ti dico che siamo stati veramente contenti si è filato tutto liscio perché per come è sviluppata la gara appunto e ci impegna molto perché è vasta l'area da proteggere per i bambini però penso ci siamo riusciti ampiamente, siamo enormemente soddisfatti